E' diventata definitiva la condanna per Ciro Russo, il 46enne di Ercolano in provincia di Napoli, che il 13 marzo del 2019 a Reggio Calabria tentò di uccidere l'ex moglie Maria Antonietta Rositani, anche lei di 46 anni, dandole fuoco dopo averla cosparsa di benzina, mentre la donna era alla guida della propria auto. La Corte di Cassazione, confermando la condanna di Russo, ha disposto la riduzione della pena inflitta all'uomo della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria da 18 anni a 8 mesi, a 17 anni e 8 mesi annullando il reato di maltrattamenti perché assorbito da quello di tentato omicidio russo con lo scopo di uccidere l'ex moglie e vase dagli arresti domiciliari disposti per lui con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nella casa dei genitori a Dercolano e raggiunse in auto a Reggio Calabria, dove la donna, dopo la separazione, si era trasferita. L'uomo subito dopo fuggì e fu arrestato dalla polizia il giorno dopo, sempre a Reggio Calabria, mentre cenava in una pizzeria. Maria Antonietta Rositani, che nel processo si è costituita parte civile contro il marito a causa delle fiamme provocate da Russo, riportò ustioni sul 50% del corpo. La donna, ricoverata nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, fu dimessa solo dopo 20 mesi, nel corso dei quali è stata sottoposta a decine di interventi chirurgici.